1.500 metri quadrati di macchia mediterranea andati in fumo i due giovani pesaresi denunciati a piede libero per incendio boschivo colposo. È il bilancio di quanto accaduto la notte scorsa sulla strada panoramica adriatica in località Santa Marina Alta, dove due 19 anni, un ragazzo e una ragazza, hanno spiegato alla polizia e ai vigili del fuoco di Pesaro di aver involontariamente dato origine al rogo, accendendo e lanciando una lanterna cinese che invece di allontanarsi verso il mare aperto, come loro intenzione, per un colpo di vento è ricaduta nella falesia sottostante appiccando il fuoco alla vegetazione. La coppia aveva allertato con il cellulare forze dell'ordine pompieri che con otto uomini e due mezzi sono riusciti a circoscrivere e spegnere l'incendio, un gioco che questa volta avrebbe potuto causare un vero e proprio disastro.